Tedi, Tedi, Gianluca ha ribattuto dal fortiere, ma ci ritenta! Calcio d'angolo a nostro favore, azione da rete tra il duo dei goliador della nostra squadra, Tedi, Mata e Gianluca Malvone. Calcio d'angolo già battuto. Tedi, 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 ha segnato Gabriele. E' il gol della Virtus che sta in pentano. Ha segnato il nostro contino, il numero 5. Gabriele, 2, 2, 3, 2, 2, 2 a 1. 2 a 1, sempre a favore della Renato Curi angolana.